Brindisi continua a dover fare i conti con crisi industriali che coinvolgono tanti settori della vita cittadina. In questa occasione si fa riferimento alla ditta Peirani, che opera in ambito portuale e che in passato ha gestito importantissime commesse legate proprio alle attività dello scalo marittimo brindisino, anche in considerazione della storicità aziendale. Dei nuovi dipendenti, ancora in orgatico, è stato annunciato il licenziamento di tre unità e tutto questo arriva dopo una lunga fase in cui si è fatto abbondante ricorso agli ammortizzatori sociali, alternate a periodi in cui invece si è ripreso a lavorare. Oggi pertanto, sindacato Cobas e lavoratori hanno dato vita a un presidio davanti alla sede dell'autorità portuale prima dell'incontro con il massimo esponente dell'ente portuale, finalizzato a capire se ci sono margini per una ripresa delle attività affidate a Peirani e quindi per tentare di salvare questi tre posti di lavoro. Peirani, tra l'altro, potrebbe essere interessata la fase di bonifica dell'area industriale di Brindisi a partire proprio da un'area che è in concessione, dove vorrebbe realizzare un capannone. Sarà importante pertanto anche una interlocuzione con il Consorzio Asi di Brindisi. Quindi è una vertenza simbolo per tre lavoratori che sono stati licenziati dalla ditta Peirani, una ditta storica che ho conosciuto personalmente nelle sue attività 50 anni fa e quindi siamo qui per più motivi. Uno per denunciare questi licenziamenti a cui siamo apertamente contrari, due per chiedere un incontro, faremo un incontro con il Presidente dell'autorità portuale a cui chiederemo la possibilità di convocare tutte le aziende che operano all'interno del porto nel tentativo di salvare questi tre lavoratori che hanno una professionalità estremamente consolidata nel tempo. Siamo molto amareggiati di questa situazione, dopo tanti anni di lavoro su quel porto, lavorando anche fino a 12 ore, sia di giorno che di notte. Sinceramente mi sento trattato male, la situazione è grave, ho 53 anni con una famiglia a carico, voglio solo che trovino una soluzione, per lo più sono anche un miracolato sull'ultimo incidente di Taranto, io sono quel ragazzo che si è salvato accanto a quell'altro povero collega che mi è scoppiato davanti. Bisogna risolvere, si parla sempre di lavoro, di lavoro, di lavoro, ma qua è sempre la stessa storia. Non ce l'aspettavamo questa situazione, ci hanno spezzato le gambe, ci hanno rimasto a casa, come diceva il collega, con famiglie, che possiamo dire? Siamo distrutti, siamo distrutti.